Facciamo il programma della giornata. Sveglia alle? Sei. Niente discoteca allora? No, no, no. Ma quando eravate giovani cosa si faceva? Ho solo lavorato io, a dire la verità, perché avevo un mutuo da pagare e le ferie non c'andavo. Io faccio niente, proprio niente. Ma lei da giovane veniva sempre qua a Riviera? Mai, mai, mai. Forse quando erano più giovani si sperava nelle vacanze, ma si pensava più a lavorare, le famiglie, i bambini. Sono a Pinarella di Cervia, qui si trova la casa preferia del comune di Modena. È una struttura costruita negli anni 50 e oggi viene utilizzata per i soggiorni dedicati alla terzità e ai disabili. Ho passato una mattina di agosto in compagnia di alcuni anziani in Riviera Romagnola per le vacanze. Storie che raccontano un'altra Italia, lontana dal turismo di massa come lo conosciamo oggi. Che ora vi alzate la mattina? Ah, le sette. Alle otto meno cinque. Lei invece? Noi alle sette, ne abbiamo letto l'una. Io alle sette. Siamo delle stesse. E andiamo a letto molto tardi perché ci siamo a giocare le carte. Facciamo il programma della giornata. Sveglia alle? Sei. Poi cosa si fa? Andiamo a camminare un'ora. Un'ora. Mezz'ora andare, mezz'ora tornare. Dopo la camminata? Andiamo a fare colazione. A che ora è? Dalle otto, otto e mezza. Quindi otto e mezza. Otto e mezza. Dopo la colazione? Andiamo in su, ci mettiamo i costumi, prendiamo le borse e veniamo in spiaggia. Ok. Ecco, se troviamo l'acqua pulita andiamo a camminare dentro, se no stiamo a sedere. Sono le nove e mezza del mattino. Cosa si va a fare a quest'ora? Andiamo a fare ginnastica. Ginnastica. Sì. Pronti per l'attività muscolare? Adesso. Prontissimi. Allora adesso qui inizia l'attività muscolare qui in spiaggia. Apriamo e chiudiamo dieci volte. Non c'è nessuno. Tre. Quattro. Qual è il programma della giornata? Eh, ci va in giro, si viene nell'acqua, si fa il bagno, il solito lavoro è come mangiare e dormire. Si balla, si canta, si gioca a tombola. Quindi ci sono un sacco di cose da fare. Giochi, giochi, stasera abbiamo i giochi. Ma balla, cosa sono serate danzanti? C'è la musica, sì. Divertente però. Molto divertente, guarda, un relax che ci voleva per noi anziani che lavoriamo sempre a casa. Poi il pomeriggio, quando c'è la voglia, prendiamo le biciclette. Si va a fare un giro per la piarella. E uno sfago, proprio una cosa, un relax. Se vogliamo andare nell'acqua andiamo nell'acqua. Le cose da fare non mancano quindi. Sì, 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 qua ce n'è fin troppo. E stasera cosa si fa? Stasera c'è il pinacolo. Il pinacolo. E andiamo a giocare al pinacolo. O ballano stasera. Si fa il torneo proprio. Niente discoteca allora. No, no, no. Noi l'abbiamo già passata la discoteca. Qui vita da spiaggia proprio. Sì, proprio vita da spiaggia. Vite che vita proprio da spiaggia. Ci sta bene? Ci sta bene. Io gli anni e anni che vengo qui in mezzo e io mi trovo bene. Qua cosa si fa? Niente. Io faccio niente, proprio niente. Io... Niente, bene, in vacanza non si fa. Sono in vacanza anche a casa io perché è l'età che ora. Da quanto ho capito è una giornata impegnativa. Sì, sì, sì. Alla fine. Bella piena. Siamo degli anziani ancora molto attivi. Non c'è nessuno che... Sono distancate, più che relax. Sì, sì. Poi quando andiamo a casa cambia tutto. Quando si torna a Modena? Eh beh, dopo si torna alla vita normale. Eh, sì, sì. Qua è bello perché poi molti anni che veniamo, 50% è sempre quelli, molti cambiano perché già nell'invecchiare qualcuno si dimentica a casa, magari ha qualche acciacco che non può andare via. Lei signora come sta passando questo periodo? Stiamo passando bene, insomma, dove siamo ci trattano bene, non ci possiamo lamentare, però c'è solo il mare che fa schifo, che è sporco. Sì, sull'ora di io vado a mare. Poi si va a pranzo? Io vado a mare, poi si va a pranzo. Sì, qualche partitina anche prima di andare a pranzo. Ben intenso allora. Solo che viene il mare sporco che non si riesce a... Come signora? C'è il mare sporco che non riusciamo a arrivare in fondo. Guardi che mare. Io sono a 90 anni e sono molto contenta di essere nel mondo. 90 anni portati benissimo. No, proprio 90 anni e un mese. E un mese. Si socializza, si sta in compagnia, ecco, si passa una vacanza. Specialmente un po' vecchi, posso stare con mezzo degli altri. Ma lei da giovane veniva sempre qua a Riviera? Mai, sono mai venuta. Mai venuta? Gli ultimi anni questi qua, mi capito. Dove faceva le vacanze? Perché non potevo, hai capito? Non poteva? No. Ecco, come erano le vacanze? Cioè, una volta, come era andare in vacanza? Eh, mio marito è morto che aveva 60 anni. Allora con i figli non sono potuto andare al mare. Certo. Adesso posso godermi questi anni. Il problema, sì, è che ci lamentiamo un po' per queste altre. Qui a Piennarella stiamo abbastanza bene perché ci alziamo al mattino, facciamo colazione, tutti d'accordo. Ma veniva anche da giovane qua? No, mai venuto. No, io sono sempre andato con la famiglia, andavo al mare, diciamo giù in Barsitalia. Nel bungalow andavo in ristoranti, siamo andati anche... Quindi, diciamo, queste qua sono i primi due anni qua in Piennarella? Sì, questo qui è una riviera che va bene per l'anzianità, per gli anziani. Sai, chi non si muove tanto bene perché ha dei problemi. Ma quando eravate giovani cosa si faceva? Oh, caro, sono lavorato io, a dir la verità, perché avevo un mutuo da pagare e le ferie non c'andavo. Invece adesso i giovani spendono tutto in vacanze? No, per me è uno sbaglio, bisogna che siano anche attenti anche loro poi, perché... A spendere. A spendere, perché si finiscono a fare presto. Comunque adesso il mondo è così, niente da fare. Invece una volta era diversa, chi poteva andava, chi non poteva rimaniva. Da giovane che vacanze faceva? Ma io mandavo in ferie in colonia le mie bimbe e gli andavo a trovare i corrieri, avanti e indietro, poi lavoravo in clinica, avevo le ferie poche volte in estate e quando potevo andare ci andavo sempre qua a Cesinatica. Ma erano quei 10-12 giorni che si faceva per mettere assieme un po' di benessere, far studiare i figli e mettere insieme. Prima veniva la famiglia, venivano i figli e la famiglia. Avevo due figlie, mio marito che lavorava alla Benfra, insomma non una cosa a mettere al meccanico, però io lavoravo in clinica e c'era da metterli in fila, da metterli in fila. Si andava via col marito? E con il ragazzo. E con il ragazzo. Adesso siamo vedove, non abbiamo nessuno, andiamo via con le amiche. Sono andato alle Maurizio, alle Maldive, fuori, perché l'Europa l'avevamo fatta tutta, l'Italia l'avevamo fatta tutta, loro andavamo fuori. Adesso sei a Pinarella. Adesso vado a Pinarella. Come vedete le vacanze adesso, insomma rispetto a quando eravate giovani? Prima andavamo in un posto, andavamo a perdere peso, poi giravamo la macchina quando arrivavamo là e tornavamo a mettere in moto la macchina quando pertevamo venire a casa. Sì, ci si riposa meno a rispetto di prima, perché prima si partiva dal campeggio o dall'albergo o dall'appartamento, si veniva in spiaggia, si stava in spiaggia fino a mezzogiorno o il pomeriggio uguale, si faceva tutta la giornata in spiaggia. Poi si andava a casa, invece adesso che siamo qua è ginnastica di qua, ginnastica di là, siamo sempre in movimenti, animazioni, poi si va a cercare anche, non so, quello che non c'è, quindi siamo sempre in giro. Mi chiedevo, lei veniva qua anche da giovane in riviera o faceva altre? Quando si è cominciato a poter girare, perché io, sa, una volta si girava poco, non c'erano mica in mezzo alle macchine e via discorrendo. Dopo che ho messo sulla macchina, che io avevo già più oltre 40 anni, ho portato a mettere sulla macchina e sono sempre venuto. Quindi era anche diverso fare le vacanze, una volta, senza macchina? Beh, senza macchina non sono mai venuto qua, io mi spostavo sempre con la macchina. Come sono le vacanze, tipo adesso, rispetto a quando era più giovane? Come, adesso, forse quando erano più giovane si sperava nelle vacanze, ma si pensava più a lavorare, le famiglie, i bambini. Adesso invece, purtroppo, i figli sono grandi, purtroppo sono rimasto solo e cerco di passarmi il meglio possibile, negli ultimi anni, di passarmi il meglio possibile, un po' in compagnia con la gente, per cercare di stare un po' bene, insomma. È quasi mezzogiorno e a quest'ora gli ospiti qui della struttura Casa Per Ferie si preparano per andare a pranzo. Adesso, dopo il pranzo, cosa si fa? Prendiamo il caffè e la partita a carte, fino verso le 4, poi andiamo in spiaggia. Un torneo? Un rilassamento, ecco. Ebbè, fa il furbo te. Comunque, così. Cos'è questo a scala 40? No, pinacolo. Ecco, si gioca a pinacolo adesso? Ci passiamo un pochino. Ah, si fa il sonnellino, eh? Perché è troppo caldo andare in spiaggia. Quindi adesso si rimane un po' qui al fresco? Sì, andiamo in istanza, facciamo un sonnellino, e poi quando sono le 3 e mezzo, così andiamo in spiaggia, facciamo il bagnetto. È una giornata piena questa? Ma ho messo un più stoffa che qua tendeva a lavorare. Lei, signora? Anche io sono stanca. Sì, facciamo il pisolino, e poi andiamo in spiaggia, e chissà che non ci scappi la partita bocce stasera. Ah, chissà, chissà. Sì, facciamo il pisolino, e poi andiamo in spiaggia, e poi andiamo in spiaggia. Sì, facciamo il pisolino, e poi andiamo in spiaggia, e poi andiamo in spiaggia, e poi andiamo in spiaggia, e poi andiamo in spiaggia.